Con la pandemia è aumentata l'importanza dei dispositivi respiratori. Anche un'azienda di Ismir, che produce dispositivi medici, si è mossa in tal senso, realizzando un convertitore elettronico che trasforma un dispositivo per l'apnea del sonno in un respiratore. La macchina per l'apnea del sonno è stata convertita in un respiratore. Con la pandemia è aumentata l'importanza dei dispositivi respiratori. Anche un'azienda di Ismir, che produce dispositivi medici, si è mossa in tal senso, realizzando un convertitore elettronico che trasforma un dispositivo per l'apnea del sonno in un respiratore. I pazienti affetti da coronavirus grave continuano il trattamento in unità di terapia intensiva o in normali reparti ospedalieri. Quelli con malattie più lievi vengono curati a casa e non negli ospedali. Tuttavia, la respirazione rimane il problema più importante per loro. Grazie a questo dispositivo di conversione, sarà in gran parte risolto il problema dei pazienti che ricevono il trattamento a domicilio. Questo apparecchio è un dispositivo CPAP utilizzato per il trattamento dell'apnea del sonno e dei disturbi respiratori. BRN Health ha sviluppato la versione base del respiratore, utilizzando le funzioni del dispositivo CPAP. Il dispositivo che abbiamo sviluppato è adatto anche per uso domestico. Naturalmente, il dispositivo non ha funzioni superiori, ma fornirà supporto ai pazienti che non hanno bisogno di un respiratore, ma che hanno difficoltà respiratorie. Con questo dispositivo convertito, i pazienti possono essere trattati da casa. Dunque, come faranno i pazienti a eseguire il proprio trattamento a casa utilizzando questo nuovo dispositivo? I medici condivideranno con il paziente i livelli di respirazione in base allo stato di salute del paziente. I valori forniti dal medico saranno inseriti sullo schermo che vedete qui e il paziente sarà in grado di regolare da solo le proprie impostazioni di respirazione. Considerando l'occupazione delle unità di terapia intensiva e il fatto che non tutti i pazienti si trovano in condizioni gravi, il nostro dispositivo, che abbiamo sviluppato come BRN Health, rende facile eseguire a casa trattamenti moderati e blandi e fornisce, inoltre, un importante vantaggio in termini di costo rispetto ai suoi dispositivi omologhi. Il nuovo dispositivo di respirazione, che è stato trasformato dal dispositivo CPAP, soddisferà anche le esigenze degli ospedali.